Allora oggi con noi ringraziamo David Farenzo che anche oggi ha questo corso che è la parola in tv, il ruolo del giornalista tra informazione e intrattenimento, chi più di David che contra la zanzara, la commissione che conduce attualmente che sta avendo un successo notevole e allora raccontaci un po' dell'intervento che è fatto oggi per quanto riguarda la parola in tv con questo tema hai molto sentito, ecco, vedete chi appartiene un po' a questo Guarda, avevo preparato, te lo confesso, io ormai partecipo ai tuoi corsi Io ti ringrazio Perché poi vengo qui e imparo, e imparo secondo me che appunto ascoltando le relazioni dei colleghi tu parti con una tesi, quindi parti da casa con una cosa che abbotta Poi ascolti Poi ascoltando sei costituito a modificare, infatti ho modificato il mio intervento che è partito dall'analisi di come la cultura televisiva americana sia profondamente legata alla sua storia politica e quindi l'analisi del Toy Show non può prescindere dal contesto politico nel quale nasce Perfetto Allora, ti ricordo che oggi con oggi, con questo corso che hai visto che c'è un ceppionone abbiamo avuto addirittura tantissime persone che sono in lista d'attesa quindi sicuramente questo tema e questo corso lo ripetiamo Bellissimo, complimenti Grazie 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 Grazie